io voglio sapere da questi maestri se è normale che mio figlio si sveglia alle 6 e mezzo del mattino e si ritrova il pomeriggio con 3 4 compiti da dover fare senza poter fare sport senza poter fare un c***o di niente voi 5 6 ore che c***o me ne fate a me che avete 20 alunni ve la dovete vedere voi collaborazione scuola famiglia e questa è la collaborazione che fate voi alle famiglie questa è fate schifo fate schifo questa categoria fa schifo punto sono pochi quelli che si salvano veramente pochi non si può fare un c***o dobbiamo sempre stare dietro a questi c***o compiti avete rotto i c***o